bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi torniamo a parlare di call of duty 4 black ops ops fa sempre ridere da dire ragazzi io ve l'avevo già anticipato qualche giorno fa nel video che parlava faceva un'infarinatura generale di questo nuovo capitolo di activision che arriverà sulle nostre piattaforme il 12 ottobre ma ragazzi la notizia è di poche ore fa è stata confermata la modalità battle royale e non si chiamerà battle royale proprio ma hanno deciso di chiamarla black ops praticamente è nient'altro che una mappa enorme ragazzi diranno hanno confermato direttamente dalla produzione di activision che la mappa di call of duty blackout sarà 100 volte più grande rispetto a quelle che sono già presenti nel comparto multiplayer online che siamo tutti abituati a vedere giocatori ovviamente di black ops ovviamente non è finita qua all'interno di questa mappa dicono sempre loro troveremo tutti gli elementi principali che hanno caratterizzato i dieci anni di call of duty che sono passati da pochissimo il tutto mixato in una in un puro cocktail di follia e divertimento ed è veramente così ragazzi perché in call of duty ci sono veramente tantissime cose che si possono fare da giocatore come avevamo già detto qualche giorno fa la ogni giocatore verrà chiamato specialista quindi avrà una o più abilità uniche questo infatti servirà per avere un bilanciamento nel gioco di squadra ovviamente ragazzi questa modalità blackout ci continuano a fare sapere che includerà tutti gli elementi che sono presenti le sottoserie di black ops come dicevamo è veramente immensa ci si potrà spostare ovviamente non è che ci si sposta a piedi ma ragazzi esisteranno dei veicoli terrestri marittimi e volanti ovviamente tutti nel puro stile da guerra hanno anche detto ragazzi e adesso andiamo a vedere insieme prima di dirvi l'ultima notizia il gameplay trailer ufficiale della modalità black ops hanno anche detto che visto che c'è stata veramente una richiesta consistente di una modalità single player hanno seriamente preso in considerazione di inserire nuovamente la modalità appena citata questo vorrebbe dire che rimangiano quello che hanno fatto sapere il 20 maggio praticamente quando ho fatto il video dove dicevo tutte le news che in realtà non avrebbe avuto questo titolo la modalità single player e sarebbe stato appunto il primo titolo senza questo tipo di gioco comunque ragazzi ovviamente rimarremo sempre aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo di call of duty black ops anche perché a me piace particolarmente come gioco ma non voglio portarvi via altro tempo ragazzi e allora andiamo insieme a guardarci il trailer ufficiale della nuova modalità battle royale o meglio black ops lo commentiamo assieme anche lo commentiamo lo commentiamo tu vaffa andare avanti tutte le cose rana c.exe popotoch era uno schermo che in realtà faceva parte di un'altra cascata se aessi tutti questi schermi avrei risolto i miei problemi guardalo 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 qua guardalo qua sono già in tre che si sparano con i rampini ragazzi qua scendono con i rampini guardate che qualità grafica ha questo capolavoro ragazzi scudi li abbiamo visti anche in battlefield 4 ovviamente tutti i belli armati lancia fiamme attenzione non è presente questo in altri videogiochi ma in che io conosco in battlefield non c'era ci fanno vedere ragazzi come la mappa è veramente estesa e come ci saranno un sacco di particolarità in questo momento avete appena visto un drone radiocomandato da un giocatore che appunto era già protetto da altri suoi giocatori ci saranno i palazzi quindi probabilmente avremo la possibilità di lanciarsi sicuramente avremo la possibilità di rilanciarci anche da grande altezze potendo aprire il paracadute infinite volte sono appena passati degli elicotteri ecco anche dei mezzi corazzati vedo un quad più di uno là dietro con due posti meraviglioso uno che guida uno che spara e goduria pura raga me lo ricordavo su battlefield era meraviglioso e qua fa vedere nella sua magnificenza tutta la grandezza di una parte di mappa ragazzi call of duty blackout è la modalità che incarna a pieno il battle royale e come tutti ci auguriamo speriamo sia veramente meravigliosa così come lo sono le premesse beh ragazzi questa era un'altra anticipazione un'altra news per quello che riguarda il futuro della perla made by activision vi ricordo nuovamente se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e condividetelo con tutti i vostri amici in tutti i vostri social noi ci vediamo presto ciao iscrivetevi al canale